Sono Barbara Pellegri e assieme a mio fratello Domenico gestiamo questo allevamento di troticoltura che si trova in Trentino e precisamente a Tione di Trento. Adesso, in questo periodo, uscendo dall'inverno, le trote, essendo animali a sangue freddo, iniziano a mangiare di più e quindi inizia un po' la nostra attività di allevatori. Questo è un lavoro ricco di soddisfazioni. Che noi abbiamo l'acqua fredda, che sono più sode, di un gusto superiore. Grazie a tutti.